Tutto è pronto all'Aquila per il Festival Riscoprire l'Europa, che parte con ben 38 eventi, otto giorni, grandi nomi, tra concerti, spettacoli e altre iniziative, tutto gratuito. Un festival che cambia pelle. Si ricorderanno le polemiche che avevano caratterizzato il Festival degli Incontri, che poi non c'è stato. Ora si parte con Riscoprire l'Europa. Domenica la Kermess in piazza sarà conclusa da Rocco Ant. Il costo dell'evento, che pure qualche polemica l'ha suscitata, è di 800.000 euro. 700.000 già stanziati dal Ministero della Cultura per il decennale del sisma. Acrobazia artistica stasera in piazza Duomo, con una mega installazione di gru, ma anche calciatori come Luigi Libiaggio, Vincent Candelà e ancora artisti come Morgan il venerdì sera e Rocco Ant, appunto. E in piazza Duomo, con le immagini del nostro Donatello Ricci, vi facciamo vedere l'installazione con la gru, simbolo della ricostruzione, che è stata montata. Questa è l'apertura del Festival Riscoprire l'Europa, Festival messo in campo dal Comune dell'Aquila, che ha sostituito il Festival degli Incontri. Saranno otto giorni, ma davvero concentrati, con tantissimi eventi e spettacoli, oltre 38, che animeranno ancora la città dell'Aquila, una coda, possiamo definirla così, della ricchissima estate aquilana. Saranno tanti gli appuntamenti, spazi per lo sport, seminari sull'ambiente e sulla transizione ecologica. Si parlerà anche di riqualificazione e rigenerazione urbana, non mancheranno musica e spettacoli. Un programma ricco e concentrato, che rivoluziona anche la viabilità in centro storico. Un evento che coinvolge molto i giovani, perché abbiamo fatto un pre-festival proprio entrando dentro gli istituti scolastici. Ci sono rappresentazioni di ogni genere, dalla danza a writer, alla musica, con i concerti di Morgan e di Rocco Ant. In mezzo c'è la riflessione sui temi su cui si sta scandendo il PNRR, quindi la digitalizzazione, l'innovazione, la rigenerazione urbana, la transizione ecologica, la cultura, la creatività, la laboriosità, anche con esperimenti che in questa città sono stati fatti, sono in corso o verranno fatti. Un modo per riscoprire un sentimento diverso di un'Europa che in questi mesi sta cambiando faccia. Non è più l'Europa dei burocrati, quella che impone le regole in maniera critica agli Stati sovrani, ma è un'Europa che si sta avvicinando alle esigenze.